Gym for Young 2018, il Gym Award, quest'anno va a un'ostetrica che si chiama Silvia Costantini dell'Università Politecnica delle Marche, che ci ha presentato un progetto molto interessante. Loro hanno fatto un'analisi dei bisogni formativi delle studentesse, presumo in ostetricia, per capire che cosa gli manca nel percorso formativo per poter sviluppare una tesi sperimentale. Quindi si collega molto con la mission di Gym, che le nuove generazioni di professionisti sanitari devono inevitabilmente conoscere metodi e strumenti per fare le ricerche bibliografiche, per fare le valutazioni critiche. E loro, dopo aver fatto questa analisi dei bisogni formativi, hanno anche realizzato una guida per le tesi sperimentali. Chiamo quindi sul palco Silvia Costantini. Che cosa mi dovete dare? Che non ho mai visto, quindi... Il premio ovviamente non è soltanto fisico, ma coincide con un core curriculum o gymbe sulla ricerca, quindi ti aspettiamo in aula per una formazione molto approfondita. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.